Ciao, questo è l'installput di Huawei Megapad appena aggiornato con Android 4 ICS vedete in 4-5 secondi circa si ha il sistema operativo pronto era una partenza da freddo, da tablet spento il nuovo firmware Android 4 è disponibile dal 28 aprile quindi è recentissimo riguarda i tablet 7 pollici 3G Megapad aumenta le prestazioni circa del 28% sia di quel che riguarda l'interfaccia grafica che le prestazioni pure delle applicazioni, adesso non ho una connessione a internet quindi non posso fare un test di navigazione web ma leggo anche di miglioramenti notevoli dovuti soprattutto al cambio di sistema operativo all'aggiornamento di versione Google che da Onecom a Ice Cream Sandwich vede diverse migliorie Huawei qua ha migliorato oltre al boot come abbiamo visto le prestazioni generali di cui abbiamo parlato, anche i consumi quindi abbiamo una migliore batteria, migliore autonomia della batteria che permette di guadagnare circa un'ora da quel che si legge in rete ho avuto anche diversi riscontri da autentiche alla lunga mi parlano di prestazioni migliori anche del reparto telefonico perché questo tablet è uno dei pochi che ha connessione adesso guardate non sono neanche con lo schermo al massimo questo tra l'altro è uno dei tablet con schermo HD, un 7 pollici mettiamolo a luminosità al massimo è un IPS tra l'altro l'ho anche recensito l'anno scorso quindi vi consiglio di andare a visualizzare la recensione completa per maggiori dettagli vi certifico che abbiamo Android 4.ics ecco qua Android 4.0.3 consiglio a tutti di aggiornare il Mediapad a questo nuovo firmware e quindi vi consiglio di aggiornare il Mediapad a questo nuovo firmware Grazie a tutti Grazie a tutti.